Un cortometraggio, questo era per ricordarvi che adesso dal 31 di luglio e 3 di agosto c'è Shortini International Short Film Festival, short film, è un cortometraggio, per cui ragazzi di Augusta, vedete, partecipate, rendete la vostra città più, più, perché è già più, ma se ci mettete anche un po' del vostro diventa ancora più, più, buon divertimento!